Manifestazione delle guardie giurate a Caltanissetta dinanzi alla Prefettura, ne parliamo con Michelangelo Mazzola della Wiltux di Agrigento Caltanissetta ad Enna. L'oggetto della protesta è dovuto al fatto che il ritardo parte per il ritardo dei pagamenti, i disagi che hanno creato i lavoratori non potendosi più regare al lavoro in virtù del fatto che non avendo lo stipendio non possono neanche mettere la benzina nelle auto per poter raggiungere il posto del lavoro. Ma il ritardo degli stipendi è dovuto alle conseguenze che questa società vanta dei credit da parte dell'amministrazione pubblica che va oltre 5 milioni di euro. Oltre a questo c'è pure la paura di perdere i posti di lavoro quindi noi oggi siamo stati ricevuti dal dottore Fichera, il viceprefetto dove abbiamo voluto con forza un tavolo tecnico dove si andrà a parlare e stabilire un rientro da parte dell'amministrazione pubblica sui crediti e i debiti che hanno nei confronti della società. E' vigilare, creare un tavolo, un osservatorio dove andremo a verificare assieme le associazioni datoriali, l'ispettorato del lavoro e quant'altro a vigilare che la stesura dei capitolati da parte delle committenti siano fatte a regola d'arte dove mettono delle tutele e dei paletti nei confronti dei lavoratori. Per diverse famiglie sono ore di apprezzione? Sì, parecchio anche perché c'è gente che non riesce più a sostenere questa situazione sul fatto che essendo monoreddito non hanno più la possibilità di comprare quello che serve per una famiglia e per regarsi anche al lavoro. Quanti sono i lavoratori interessati? I lavoratori interessati per quanto riguarda il KSM nelle tre province siamo più di 200 persone, sono più di 200 dipendenti, solo su Caltanessetta sono 137.